Alvia il reclutamento di 90 candidate donne residenti in Sicilia disoccupate o inoccupate di età compresa tra i 34 e i 50 anni che saranno selezionate per i 5 corsi formativi gratuiti del progetto Donne Smart nel Wine & Food. Sogna, osa e conquista, recita così questo slogan straordinario di un'iniziativa dove cercate donne chiamano il Wine & Food. In che modo? Il nostro è un progetto di empowerment femminile, tutto siciliano, perché si rivolgerà a 90 donne residenti in Sicilia tra i 34 e i 50 anni che in questo momento sono fuori dal mercato del lavoro, quindi sono disoccupate. Gli daremo l'opportunità, completamente a titolo gratuito perché il progetto è finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale di fare un percorso di formazione molto specialistico nel digitale. Ci sono 5 corsi fra cui scegliere e questi corsi saranno sì sul digitale ma applicati al settore enogastronomico, quindi con la possibilità di sviluppare competenze specifiche nell'ambito digitale ma con un'attenzione ai prodotti eccellenti che abbiamo in Sicilia nel settore enogastronomico. A questo si affiancheranno degli incontri con le aziende, la possibilità di fare delle sessioni di coaching, orientamento, visite didattiche in eccellenza del territorio perché l'obiettivo è proprio ricollocare queste 90 donne e di dargli una nuova possibilità di esprimere il loro potenziale e al contempo avere un impatto positivo sull'economia locale in particolare sul settore enogastronomico, anche perché vediamo tutti i giorni attraverso la nostra esperienza che le aziende del settore enogastronomico in Sicilia hanno bisogno di competenze di alto livello ma non le trovano e vogliono quindi offrire lavoro, ma non trovano le competenze che cercano. E quindi allora per iscriversi, per partecipare a questi corsi che sono online, se non vado errato, online e gratuiti? Assolutamente, quindi si può collegare da ogni punto della Sicilia, dalla montagna alla collina. Cosa devono fare? Quindi non ci sono scuse per partecipare. Cosa devono fare? Allora sul nostro sito cruvision.it slash donne smart trovate tutte le informazioni sulla facoltà, i corsi e poi c'è la possibilità di candidarsi, scaricare il bando, seguire una serie di punti, candidarsi online, il tempo non è, c'è un po' di tempo, 25 agosto una prima scadenza se siete interessati ai corsi di digital marketing, mentre 29 settembre per altri corsi molto specifici come quello di e-commerce, big data e user experience. Solo donne? Solo donne, assolutamente. Siamo proprio qui per loro e il progetto è solamente dedicato alle donne che residenti in Sicilia, come dicevo prima.